Sono stati sottoposti al giudizio di una commissione regionale i 20 allievi dell'accoglienza turistica, gli altrettanti della sala e vendita e i 60 dell'enocastronomia dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio di Bartolo, e il risultato è stato strabiliante. I ragazzi, nelle diverse materie, hanno sostenuto un esame sulla fondamentale comunicazione non verbale, sulla gestione dell'ospite, sulla preparazione di un menù completo, dall'antipasto al dolce, al servizio del vino, un esame a 360 gradi, sostenuto dinanzi ad una folta presenza di docenti, genitori ed istituzioni. Era presente anche il sindaco, Domenico Messinese. Siamo molto contenti come istituto per la possibilità di dare ai ragazzi tutti gli strumenti, abilità, competenze, in grado di poterli spendere nel mondo del lavoro. Sicuramente sono ragazzi che si inseriranno nelle strutture alberghiere, nei ristoranti, suddivisi in tre gruppi. Un gruppo che consegue l'attestato di operatore per l'accoglienza turistica, un altro gruppo consegue l'attestato di operatore per sala e vendita, e un altro gruppo consegue l'attestato per quanto riguarda l'operatore enocastronomico. Molte di questi ragazzi continueranno a studiare, a completare gli altri due anni, per poi conseguire il titolo di tecnico di operatore di enocastronomia, tecnico di sale e vendita, e tecnico dell'accoglienza turistica. Devo dire che il nostro istituto, ribadisco, costituisce il fiore all'occhiello per quanto riguarda la formazione professionale, grazie appunto a questa alta specializzazione. Non dimentichiamo che raccoglie circa 650 alunni. I ragazzi inoltre hanno preparato dei video con 20 personaggi carismatici importanti, scelti da loro, abbinati ad una dozzina di professionisti del settore, raccontando un fantasioso incontro con loro e spiegandone sia il profilo non verbale che le funzioni del loro lavoro in quell'occasione. Ognuno di noi stiamo portando dei personaggi storici, famosi, dei personaggi letterali, politici e anche sportivi, mostrando anche dei video. E niente, tutti emozionati, tutti felici per il termine di questo esame. Una delle allieve, inoltre nel suo racconto, ha immaginato di dover svolgere l'attività di direttore di un hotel nelle zone del centro Italia colpite dal violento terremoto. E la commozione per chi l'ha ascoltata è stata tangibile.